Se ricordate il Gioanon con l'aranza e il suo capello che sembrava il re del campo col forcone accanto a lui Gioanon con la sua forza disegnata sui sobracci quanti anni del campage che ha portato fino alla fine Ma me domandero il bec del merlup per fa un bocci per fa un bocci per trocchi rob che il tempo è il maschondì su tairatis su tairatis e quando troverò la cassa del tesoro vi chiamerò con me e dopo l'aprirò se tu ritroverai la luce del passato rimetterai l'anello di quello che hai scordato ricorderemo il viaggio come tanti pirati tra il vento del futuro e quel che siamo stati ma me domandero il bec del merlup per fa un bocci per fa un bocci per trocchi rob che il tempo è il maschondì che il tempo è il maschondì su tairatis su tairatis su tairatis su tairatis che col capelli in man saluta saluta di lontani su tairatis su tairatis saluta 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 su tairatis Grazie a tutti.